Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Ok Ok a non è così il caso di ponte non i moni 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 già la già la gli o già la già la cg bimbi sa che già la fondamoni e dei pochi sono già la cg cimbi bling e si che già la già che nasce il prodotto mi scusi david patatine devi 0 mi scusi mi scusi david su e non sapevo da sotto attenzione però si scende con la kill 109 trombato il primo poco cazzo poco cazzo il capo cazzo poco cazzo poco cazzo il cazzo il sound ma che cazzo fa sono i pazzo divanzo di pazzo cosa cazzo fa 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 sono pazzi proprio qua 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 sono di pazzo di pazzo arrivato cosa cazzo fa fa sono di pazzo di pazzo di pazzo arrivato proprio qua 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 sound 122 punti tara 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 ma si rende contare adattata tarda da braccio le si vuole un abbraccio sound anche a lei pazzo criminal pazzo criminal non faccia boscaiolo buonasera 44 in siamo da regio 70 con sei pu vai eliminato bomba nino col giro da dietro giro e pallino cresino da 3 a 1 andiamo andiamo stupidissimi ok uno è da me uno è da me no sono qua tutte 3 si mi stava mirando in legno in legno in legno 39 dink 2 triple dink triple dink ragazzi troppo c'è qua non si fanno i trick shot qualcuno è creepy fortissimo 4-9 4-2 4-2 oh i need help maybe come to me come to me ok they're just dropping king boxed 70 white he won't tank me he's 70 white bro dead 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 another one in your boxed another one in your boxed watch 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 get out of me go get out of me finish 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 go 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 wow gooo please 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 i wanted to bella gg raga non c'ho più voglio non c'ho più voglio di giocare frate non c'ho voglia di fare le figure di merda e basta non c'ho voglia di fare le figure di merda e buona a gioca frate ci usciamo parco e basta mi sono tutto il cazzo mi sta arrivando un sistema nervoso bruttissimo bruttissimo chiedo perdono un'altra volta che sono completamente oggi sono matto devo dire oggi sono perdono il senno rapidamente chiedo scusa non faccio più non voglio mostrare questo tipo di content alla mia live però chiedo scusa manziac c'ho un big per te ti lancio io c'ho anche mini per te vabbè sto big te l'ho praticamente scammato comunque questo sembra un pad player voglio prendere la ciapta bravo l'acciso 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 minchia gg ma poi Tony riesce a squipparla dai e vi è piaciuto come era non lo so aspetta vedi